Era una ragazza che amava lo studio e la natura, tanti la ricorderanno anche per la sua leggerezza nella danza aerea. Come una fatina che vola in mezzo ai fiori, lei si muoveva sui tessuti. Questo è il ricordo di Kesia, la ragazza di 15 anni che ha perso la vita nella terribile carambola fatale in A1 lo scorso 22 giugno. Una notizia che ha straziato l'intera comunità casentinese che si è subito stretta attorno ai genitori Lara e Cosè. Un sostegno adesso anche economico per aiutarli ad affrontare questo momento, dal funerale alle spese burocratiche, legali e sino a quelle mediche. Così è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. La ragazza nei prossimi giorni sarà cremata, le sue ceneri poi torneranno con i genitori in Valle Santa, dove i cittadini stanno organizzando un momento di raccoglimento nella piazzetta del paese per ricordarla e salutarla un'ultima volta. A Correzzo intanto c'è già un albero al quale è stato appeso il suo nome e presto l'intero giardino della scuola dove aveva fatto le elementari sarà lei intitolato. Le amiche della danza invece la scorsa domenica mattina hanno lanciato al cielo dei palloncini bianchi e lì c'è di Poppi che la giovane frequentava e infine intende promuovere una borsa di studio legata al suo nome.